La pace sia con voi. Come state? Grazie a Dio per la grazia che ci ha concesso, che è la grazia della Jihad. Giuro che non c'è nulla di meglio di questa grazia e Dio ci ha aiutati a stare calmi. Tenete duro, spero che Dio ci accetti come martiri. Il mio messaggio è alla mia famiglia. Vi amo e continuerò ad amarvi, ma è un ordine di Allah. L'ordine di Allah è più grande e ha la priorità su tutto. Una strage, 25 morti, tra cui un bambino di 4 anni. A Dio piacendo, tutti gli infedeli saranno eliminati e ci sarà onestà e non ci saranno inganni e allora i credenti andranno in paradiso. Noi siamo musulmani, loro sono infedeli. Li distruggeremo con un attacco devastante.